Michele Angiorgia, vincete col Santiodoro, altri tre punti. Guardando la classifica, guardando le partite che mancano, dovete fare anche il riposo, viene da dire troppo tardi, però voi ve lo state giocando, state donando il campionato e poi si vedrà. Sì, diciamo che ci siamo svegliati un po' troppo tardi. Felici per la vittoria, stiamo giocando abbastanza bene le ultime partite, stiamo giocando più con la palla, senza essere frettolosi, siamo abbastanza sereni, però diciamo che il tempo non è dalla nostra parte e neanche le partite. Quindi felici fino a un certo punto, poi sono contento per il gol, però facciamo più. Focalizziamo la gara, 0-0 il primo tempo, all'inizio della ripresa, punizione, la palla rimane lì, in rovesciata di fatto, fa il gol. Non so neanche come, è andata così. Mi sono lanciato, non so se riuscite a prenderla, poi è un risultato. È sempre bello, no, fare gol? È sempre bello, ne ho fatti pochissimi, però sì, fa piacere, fa piacere. Senti, tra l'altro in un campo che si può dire essere il tuo, perché hai giocato... Sì, è sempre un piacere tornare qua, bella gente, bel campo, bei ricordi. Ecco, si festeggia la Pasqua con la vittoria, l'avevamo detto prima, la classifica purtroppo è ancora misera, tra virgolette, perché davanti a voi... Sì, diciamo che possiamo solo continuare a provarci con tutte le nostre forze, ovviamente sì, è quasi impossibile, però non ci resta che provarci, continuare a giocare sereni, come stiamo facendo. L'unica cosa che è rimasta buona e intatta per tutto il mio cammino, che io sono arrivato a dicembre, è stato il gruppo e su quello non posso lamentarmi di nulla, perché siamo un bel gruppo e siamo sempre rimasti uniti, qualsiasi cosa sia successo. Infatti, Michele, c'è il rischio, ne abbiamo parlato anche col mister, che in quelle condizioni di classifica magari si sbaracchi e si perdono partite anche con goleate, invece voi ve la state giocando? Sì, ci è capitato qualche volta di fare delle sbandate, poi diciamo che ultimamente proprio stiamo riuscendo a dimostrare anche il nostro valore, il nostro vero valore. Io cercherei di continuare così per le ultime 3-4 che rimangono, 3 partite. E niente, vedremo come andrà. Dopo Pasqua riprendete con la Villa Cidrese, nel frattempo la Villa Cidrese dovrà giocare con l'Iglesias, potreste essere ancora ultimi con loro o penultimi, in ogni caso cercate la terza vittoria di filo. E' importantissimo, poi sono diretti i concorrenti, quindi dobbiamo fare bene e portare la partita a casa per forza. Grazie Michele, complimenti per il gol. Ciao.